L'aperitivo della domenica, la discoteca Fellini, è sempre un appuntamento importantissimo. Puoi degustare tutte le prelibatezze del cibo cucinate da un grande chef. E tutto questo lo potrai abbinare con un aperitivo speciale adatto a tutte le tue esigenze. E poi alla fine si balla. Just as you, Eglan, tomorrow, the west Just as that way, that's how we just the best You just get your kicks All rules, 6 to 6 Eccomi qui con Pasqualino, Passion & Fashion di Nerviano. Ciao! Accompagnato da due splendide fanciulle. Esatto, ci siamo divertiti a pettinarle, ci sta venendo fuori una bella serata. Pensiamo, insomma, in futuro anche. Speriamo, è la prima volta, quindi notte e quadra qui va bene. Le ragazze sono quadre, giusto? Sono quadre, sono molto quadre. Senti, Passion & Fashion, cosa propone? Tante belle cose, tante novità e comunque vi invito a venire a trovarmi. Ok, indirizzo. Viale Villoresi, Nerviano. Numero? 73, Passion & Fashion. Esatto, quindi pettinate sempre da Pasqualino, Passion & Fashion. Esatto, perfetto. Pesame, Pesame, Pesame Muccio. Come si può e resta non c'è la ultima, me. Pesame, Pesame Muccio. I pitoni alla notte quadra, chi me lo spiega? Ma sicuramente sarà il gazebo più bello della serata. Vediamo, vediamo. C'è tantissima gente curiosa a vedere questi animali fantasmi. Il terzo pitone è arrivato pure. Noi cercheremo di far divertire i bambini, i giovani, i anziani, i mamme. Ma perché questo? Perché aprirete un negozio qua a Nerviano? Un negozio a Nerviano, magari a Sant'Ilario. A Sant'Ilario. Avete già l'indirizzo? Sì, è via Cadorna 3B. Via Cadorna 3B, quindi uno di non solo Nerviano, Sant'Ilario e Garbato, ma comunque tutti quelli che vogliono possono venire qui a comprare i pitoni. E non solo pitoni, rettili. Anfibi, pesci. Ok, va bene. Allora ragazzi, se ci avete coraggio, occhio. Coraggio, curiosità più che coraggio. Perché ci vuole curiosità. Il coraggio poi arriva piano piano. Esatto. Il coraggio, curiosità più che coraggio. Allora, finalmente il tempo ci ha dato ragione, partita la prima notte quadra. Sì, non c'è il 2 senza il 3, stavolta invece ce l'abbiamo fatta, siamo molto soddisfatti del tempo e soprattutto della partecipazione dei cittadini, che è stata veramente una risposta straordinaria. Prima notte quadra, molto bene. C'è stato molto lavoro dietro le quinte, giusto? Sì, io credo che bisogna ringraziare soprattutto tutte le associazioni presenti qui che hanno cominciato già da stamane a lavorare, hanno lavorato insieme. Questa è la vivacità che il nostro municipio ha e la ricchezza è data proprio da tantissime associazioni, dai commercianti, da tutti quelli che hanno creduto in questo evento. E abbiamo visto che se si organizzano le cose la gente risponde, quindi questo può essere un là, eh? Sì, assolutamente. Noi non siamo nuovi, anzi domani sera ci sarà un altro evento importante con l'associazione Musicum Mozart, sostizio d'estate. Continua la Nerviano Estate, continuiamo a fare eventi e interventi insieme alle nostre associazioni, siamo davvero fieri. Bene, allora sempre Nerviano alla grande. Grazie, grazie sì, avanti così, grazie davvero. Grazie a tutti.